Buongiorno amici, bentrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo, come promesso, a vedere l'unboxing del Fenix 7S Pro Solar. L'ultima versione, quella con il nuovo sensore, andiamo a vederlo. Questo è il 7S, quindi la versione più piccola da 42 mm, poi abbiamo il 7 normale da 47 mm e quello da 51. Andiamo ad aprire la confezione, dove troviamo, ovviamente, come al solito, niente come tutti i dispositivi Garmin, solita confezione in cartone e caricabatterie di tipo standard, ma a che differenza degli altri, troviamo il Type-C. Vedete? Mentre normalmente, fino a prima di questo orologio, presentavano tutti il Type-A. Andiamo velocemente a dare un occhio anche con gli altri due Garmin che ho qua a disposizione, cioè il 245 e il 255. Dimensionalmente l'S, come vedete, è più piccolo del 255 e una misura più simile al 245, leggermente più grande, ma di pochissimo. Ma la parte interessante è questa, il nuovo sensore, quello di ultimissima generazione, che come vedete, rispetto al precedente, a quello utilizzato fino ad oggi, trova tre volte tanti i sensori di lucina verde. Vedete? Sono 6 contro 2, mentre gli altri sensori sono posti esattamente allo stesso identico modo, ma troviamo in più qua delle placche che sembrano in ferro, un po' simili ai sensori che troviamo anche su Apple Watch. Vedete che è più simile al sensore di Apple Watch con le placche di ferro? Questo mi fa presumere, sperare, che magari possa in un futuro Garmin implementare anche l'elettrocardiogramma qua, perché potrebbe avere uno schema simile. Andiamo a togliere la pellicola, vedete qua già la parte inerente al solar, accendiamolo e guardiamo tutti e tre gli orologi, uno a fianco all'altro, con i vari sensori. Come vedete l'evoluzione è un po' questa. Troviamo il 245 col sensore più, tra virgolette, vecchio, questo qua, il 255 col sensore attuale, diciamo fino a poco fa, prima dell'uscita di questa nuova serie 7S, 7 Pro, perdonatemi, e l'ultimissimo sensore. La dimensione, come vedete, è nettamente superiore a quello attualmente in uso. Come vedete l'evoluzione ha portato anche a far sì che i sensori, da essere completamente esposti come un tempo, avessero una specie di protezione qua per far sì che comunque se ne essero più a contatto col corpo e evitare l'entrata di luce di lato, questo stile è rimasto, ma abbiamo notevolmente ingrandito il sensore. Io andrò ovviamente a sincronizzarlo con la mia applicazione, a utilizzarlo per un po' di tempo e vi porterò le mie considerazioni su questo device, che è il top di gamma attuale di casa Garmin. Diciamo che questo aggiornamento di sensore è arrivato un po', tra virgolette, in sordina, perché non se ne è pubblicizzato tanto, insomma qualcosa sì sul sito di Garmin, ma non tantissimo. Il cinturino, come vediamo, su questa versione S è da 20 mm contro i 22 sulle versioni più grandi, sempre sgancio rapido, qua, vedete, e innesto altrettanto rapido. I sensori, come vedete, si illuminano quando appoggio il dito 2, in teoria dovrebbero funzionare in questo modo. Due sensori sono quelli sempre attivi, cioè quelli che poi troviamo anche sul vecchio misuratore, gli stessi dentici centrali. Gli altri sensori si vanno ad attivare nel momento in cui impostiamo un'attività fisica. Qua troviamo nel tasto principale, oltre che avere il tasto quello per l'attivazione dello sport, troviamo la solita, diciamo, segno che mette i Garmin, vedete, su questo qua c'è una lighetta rossa, qua troviamo il segnettino grigio, e in questo troviamo questa placchetta, che però per la prima volta è in ferro. E mi fa sempre ben sperare che magari tenendo schiacciato qua e tenendolo al polso, faccia un po' l'effetto del pulsante di Apple, che serve per l'elettrocardiogramma. Non lo so, questa è la mia sensazione, non ho letto niente in rete, ma ci spero, ci spero, non si sa mai. Le caratteristiche ci sono tutte, anche le placche in ferro, come vedete, sono proprio caratteristiche del lettore per l'elettrocardiogramma, per l'ICC. Misuratore e caratteristiche sono tutte le stesse, che ha praticamente anche il 255, con in più le mappe precaricate, uno schermo potrebbe essere sicuramente migliore, e la ricarica solare. Lo andrò a provare, per questo velocissimo unboxing è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, perché così potete vedere un po' il test di questo orologio e magari la comparazione tra i vari sensori che sono finora usciti di Garmy. Grazie, a un prossimo video!